Mano alle manovelle dell'auditel della suocera perché sta per entrare Alessia Buonasera a tutti, sono Alessia, per il mio futuro vorrei un buon lavoro, una bella famiglia e desidero un uomo deciso a fianco a me che mi ami per come sono dentro Che cosa non ti piace degli uomini? Non mi piacciono gli uomini titubanti, come ho già detto voglio un uomo deciso Cioè che decida di stare con me e resti con me perché io sono così, perché mi accetta per come sono e perché mi piaccio come sono Ciao Alessia, ti scrivo per invitarti fuori Non me la sento di dire per esempio a te, adesso sei quello che mi interessa fra tutti e cinque e poi magari scoprire che tu hai delle cose che a me non stanno bene Secondo me lei è molto piccia, è buona ragazza Che io ho detto? Sì, attendo Non la sento No, mi ha detto subito, soledita Scendo Alessia Nome? Alessia Alessia Ma non è che si dispiaci Ci sta sempre qualche antipatia con qualcuno E io questa antipatia nell'intuwente L'ho sentito Tu secondo me sei entrato semplicemente molto carica, troppo carica Poi dopo hai capito che effettivamente, essendo più te stessa, sei anche più piacevole. La ragazza che otterrà in media il livello più alto di gradimento da parte vostra, non potrà essere nominata da nessuna di voi. Allora vince Alessia! Ce ne sono tanti di ricordi belli che io mi porterò dietro di qua. Comunque è nato la nuova mura. Ma tu non hai preso una decisione? Su cosa? Su quale ragazza corteggiata? Per quanto ti riguarda lo sai che me la penso. No. Dipende molto da te. Per me un bacio qua dentro ha un valore più forte che un bacio fuori. Mi ha fatto molto piacere, resta arrivare fino alla finale, a prescindere dalla vittoria, non dalla vittoria di questo programma perché riuscirò da qua dentro con Claudio. però è un valore! La chiusura è quello che è finito. Io ti ringrazbo nella levardà chiaro!